MXGP of the Netherlands TV Schedule Race Links Valkensward, secondo appuntamento per il Mondiale di Motocross 2019 Il Circus Mondiale si ritrova nell'iconico tracciato olandese di Valkensward caratterizzato dalla profonda sabbia nera che muta forma ad ogni giro. Per Jeffrey Erlings, detentore della tabella rossa, un habitat quasi naturale vista l'estrema confidenza con il particolare fondo del quattro volte campione del mondo. Con solo nove punti di svantaggio Tidgeis e Rettoni Cairoli, secondi in classifica, tenteranno di assaltare la leadership di Erlings sullo slancio dell'ottima prova offerta la scorsa settimana a Matterley Bayson. Nella quarto di litro Iago Girtz guida la classifica mondiale seguito da Ton Viale e Michela Arut. A Valkensward si aprirà la stagione del campionato continentale della classe 250 categoria nella quale militano molte nostre giovani speranze e soprattutto Mattia Guadagnini che, dopo aver conquistato lo scorso anno il titolo della classe 125, punta subito al bersaglio grosso. Seconda prova anche per il Mondiale Femminile dove è attesa protagonista la nostra Chiera Fontanesi. Si scambiano generi di prima necessità ai checkpoint di Codogno. Il coronavirus sta mutando rapidamente il volto dell'Italia, dove assiste a scene che prima di oggi abbiamo visto solo in televisione, nei film o nei telegiornali ma sempre lontano da noi. Le zone più colpite sono quelle della bassa Lombardia, la Bergamasca e il Bresciano ma, a macchia d'olio, il coronavirus ha colpito con violenza tutto il nord Italia e con meno intensità il sud Italia. L'unica zona rossa attualmente presente nel nostro territorio è limitata a una frazione dell'Odigiano, nell'area attorno a Codogno dove gli esperti hanno individuato il focolaio italiano. Proprio il delizioso borgo della Lodigiana, finora sconosciuto ai più, è suo malgrado salito agli onori della cronaca nelle ultime settimane perché da lì pare sia partito il maggior numero di contagi che ha coinvolto l'Italia. È stato il primo paese a subire la quarantena totale e a veder bloccati i suoi confini per evitare che cittadini poco responsabili violassero le misure contenitive imposte dal governo? Il coronavirus a Codogno ha rivoluzionato in poche ore una cittadina di quasi 16.000 abitanti. Da un momento all'altro sono state chiuse fabbriche e negozi, bare locali per l'intrattenimento e la popolazione è entrata in una sorta di limbo. Le prime ore sono state le peggiori per il paese, che ha dovuto riorganizzare rapidamente la sua struttura sociale per non implodere e così, dopo qualche giorno, sono stati riaperti i supermercati e le piccole attività commerciali, che forniscono beni di prima necessità per la sopravvivenza del paese. La quarantena di Codogno e degli altri centri limitrofi, 11 in tutto compreso l'epicentro del Focolaio per un totale di circa 50.000 persone, ha innescato una serie di situazioni che riportano a racconti lontani, di un'Italia che si pensava non esistesse più. Il coronavirus ha diviso le coppie, ha interrotto fidanzamenti, separato genitori dai figli, che per svariati motivi non si trovano nella stessa città. Sono tanti i matrimoni che sono stati annullati da quando è stata delineata la zona rossa, tante le persone che non possono andare a trovare i propri cari. Le città sono vigilate, ogni ingresso e ogni uscita ha un suo checkpoint presidiato dai militari armati, garanzia del contenimento e del rispetto della zona rossa e della quarantena. Nessuno può entrare e nessuno può uscire dalla zona rossa, a meno che non si tratti dei rifornimenti di generi di prima necessità che ogni giorno valicano il confine invisibile per rifornire le attività commerciali e garantire il sostentamento alla città. Nessuno può varcare il limite della zona rossa senza essere controllato dai militari, rigorosamente muniti di guanti e mascherine per tutelare se stessi e gli altri. Ci sono anche momenti di tenerezza alla frontiera, genitori che accompagnano i loro piccoli a vedere cosa sta succedendo in città, perché si sa che ciò che non si conosce fa sempre più paura. Ci sono madri, padri, sorelle e amici che portano piatti pronti, abiti e quant'altro dal di fuori della zona rossa e i loro cari che stanno in quarantena. Loro non possono entrare, non ci possono essere contatti. Sono i militari che svolgono l'originale ruolo di ambasciatori. Chi proviene dal di là del confine consegna i pacchi al posto di blocchio o lo lascia per terra e chi vive all'interno della zona rossa lo riceve dalle loro mani o, in alternativa, si avvicina a ritirare quanto gli è stato portato solo dopo che la persona si è allontanata. È un'Italia diversa, scossa e spaventata da qualcosa che non ha previsto e che non pensava di poter vivere con questa intensità ma è un'Italia che non si arrende e che con coraggio e fatica non si lascia andare ma combatte unità per rimanere in piedi, speranzosa di vedere presto la fine di quello che, Alla fine, ricorderemo solo come è un brutto sogno. Coronavirus, ora la Germania ammette, abbiamo focolai come Italia e Francia. In Germania abbiamo più focolai di coronavirus, ma la maggioranza dei casi non è più importata dall'Italia, dalla Cina o dall'Irano da altri paesi. Sono casi che non sembrano più importati, quindi possiamo paragonare la nostra situazione a quella dell'Italia e a quella della Francia. Lo ha dichiarato il ministro della salute tedesco Jens Spahn, durante il consiglio straordinario a Bruxelles. Ci sono molti paesi, ha continuato Spahn, che sono ancora nella fase di take-tend contain, come noi dieci giorni fa. È un tipo di situazione in cui tutti si ritroveranno, presto o tardi. Ora in Italia, Francia e Germania siamo in una situazione in cui constatiamo dei focolai, che sono fonte di propagazione della malattia a livello nazionale. Come ha riferito ADN Kronos, il numero di persone contagiato dal coronavirus in Germania al momento è di 534, contro i circa 400 di cui era stato riferito ieri sera. La malattia si è diffusa in 15 dei 16 stati del paese con l'eccezione della Sassonia Analt. A riferirlo è stato il Robert Koch Institute, precisando che il land più colpito è quello del Nord-Renol-Westfalia, con 281 casi confermati, seguito dal Baden-Württemberg, 91, e dalla Baviera, 79. Per settimane la Germania ha puntato il dito contro l'Italia. Ora si è scoperto che il focolaio 1, cioè l'area in cui si è manifestato per la prima volta il Covid-19 in territorio europeo, potrebbe essere un'azienda tedesca che ha il suo quartier generale a Stockdorf, vicino a Monaco di Baviera. Ma il paese continua a isolare l'Italia sconsigliando tutti i viaggi non essenziali in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Ma non solo. Nell'elenco compare pure l'Alto Adige. L'Istituto Epidemiologico Robert Koch di Berlino ha tuonato, un terzo dei casi portati in Germania dall'Italia proviene dall'Alto Adige con 36 casi. E adesso il Ministro della Salute parla di focolai nel paese. Sono casi che non sembrano più importati, quindi possiamo paragonare la nostra situazione a quella dell'Italia e a quella della Francia, ha ammesso Jens Spahn che pochi giorni fa, nel corso di un intervento al Bundestag, aveva dichiarato, il picco della diffusione del contagio del Covid-19 non è ancora stato raggiunto. Prendere misure alla frontiera, come negli aeroporti, non permette di contenere la malattia. Per questo in Parlamento ha detto che l'epidemia è ormai arrivata in Germania, ha concluso il Ministro tedesco. Raffaele Morelli, coronavirus, dobbiamo allontanare il pensiero. Lo psichiatra ha spiegato in un video come pensare sempre al coronavirus, oltre a non farci stare bene, indebolisca le difese immunitarie. In questi giorni alla diffusione del coronavirus in Italia ha fatto seguito una vera e propria psicosi. Sul tema è intervenuto l'opichiatra Raffaele Morelli che, attraverso un video pubblicato su YouTube, ha voluto far chiarezza e infondere serenità e ottimismo. Le aree del cervello dove esiste l'ipotalamo ha esordito Morelli sono collegate agli affetti, alle emozioni ma anche agli ormoni e al sistema immunitario. Per questo nella depressione il rischio di patologie degenerative è più alto. Continuando a pensare al virus creiamo dentro di noi uno stato di dipendenza dalla paura, di essere invasi, di essere contaminati. E questa paura finisce per prendere il sopravvento e per indebolire profondamente il nostro sistema immunitario. A Fondi i casi di coronavirus aumentati per una festa di carnevale. Zingaretti, non andava fatta. All'evento del comune in provincia di Latina, ha spiegato l'assessore alla sanità del Lazio, hanno partecipato persone provenienti anche da altre zone d'Italia. Una festa di carnevale a Fondi, in provincia di Latina, sarebbe stata determinante per il contagio di alcune persone risultate positive al coronavirus. Un momento conviviale che si è svolto a fine febbraio, forse proprio martedì grasso, e che si è rivelato fatale per alcuni dei partecipanti. A mettere in relazione alcuni contagiati con il Parti, molto affollato, è stato l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato. Ieri sera avevamo notato una presenza anomala di casi nel territorio latina, ha detto, ma a una prima considerazione non si capiva bene il link. Stamattina con l'aiuto delle forze dell'Ordine si è capito che tutti gli infetti hanno in comune una festa conviviale con gente di quella zona alla quale hanno partecipato persone arrivate da altre zone del paese. Tra i contagiati un cittadino di Aprilia, ricoverato in isolamento al Goretti, un uomo di cisterna di Latina arrivato all'ospedale di Velletri e poi trasferito allo Spallanzani e altri tre pazienti provenienti da Fondi e da Terracina. E aumentano i contagi nel Lazio, passando da 44 a 53. I ricoverati sono 26 e quelli in terapia intensiva sono 8. Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili a eccezione di 7 che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio, informa il bluettino dello Spallanzani. 16. Dagli ultimi dati, le persone positive che si trovano in isolamento domiciliare. E intanto sono alcune decine di operatori sanitari in sorveglianza domiciliare. Al San Giovanni sono 48 gli operatori in sorveglianza inseguito al decesso di una donna all'ospedale San Giovanni. La situazione non preoccupa ha detto D'Amato spiegando che si sta lavorando per stabilire il link epidemiologico della donna deceduta. In sorveglianza preventiva anche una decina di persone che sono state a contatto diretto con un chirurgo del San Camillo risultato positivo al coronavirus. Sorvegliati a domicilio anche alcuni operatori sanitari del Policlinico Tor Vergata, del San Filippo Neri, del Sant'Anna di Pomezia. E proprio in quest'ultima cittadina si registrano due nuovi casi ed sono in corso oltre 400 interviste di indagine. Non stiamo in una fase di grande assedio. Sono numeri al momento abbastanza contenuti. Nessuna attività è sospesa, ha detto stamattina il direttore sanitario del Spallanzani, a margine del bollettino medico. Venerdì 6 marzo la Camera aderisce a M. Illumino di meno. La Camera dei Deputati aderisce anche quest'anno come fa dal 2007 alla campagna M. Illumino di meno, promosso dalla trasmissione Caterpillar di Radio 2 RAI. Venerdì 6 marzo, dalle ore 18 alle 20, resterà spenta l'illuminazione delle facciate di piazza Montecitorio e di piazza del Parlamento e verrà ridotta quella dei Corridoi e del Transatlantico, purché in concomitanza non si svolgano lavori da OLA. L'adesione alla campagna si inserisce nel più generale impegno della Camera per un uso più economico e razionale delle fonti energetiche.